Buongiorno a tutti e speriamo davvero che sia una buona giornata per i nostri telespettatori e anche per noi. Benvenuto al Sindaco Marco Doria per il nostro consueto appuntamento settimanale. Io partirei prima di dare voce ai telespettatori e ai cittadini chiedendole di fare un punto su questa vicenda dei trasporti, perché c'è stato anche questo increscioso episodio dell'assessore regionale Vesco aggredito sostanzialmente. Ieri in Consiglio Comunale le sono stati chiesti alcuni chiarimenti a proposito di questo provvedimento regionale per cui si andrebbe verso l'unificazione della gestione, ma mantenendo le aziende in termini provinciali sostanzialmente. Mi pare che c'è anche un po' di confusione. Sì, confusione e tensione. Parto dall'episodio che purtroppo ha coinvolto l'assessore Vesco, mi dispiace molto. Ho avuto modo di osservare, ovviamente esiste preoccupazione tra i lavoratori delle aziende, preoccupazione più che giustificata perché il settore è in difficoltà, le aziende sono in difficoltà, in particolare l'azienda del trasporto provinciale rischia proprio letteralmente il fallimento. Questa preoccupazione si traduce anche talvolta, e questo è comprensibile, in esasperazione. Non è però accettabile che l'esasperazione si traduca in atti di violenza fisica, per quanto magari limitati, ma non sono mai giustificabili. Quindi bisogna, soprattutto nei confronti di persone che non hanno delle particolari responsabilità per il fallimento di un'azienda, questo non è... Diciamo la verità, adesso è anche uno dei pochi politici, forse nel suo settore ci mette sempre la faccia davvero. Questo assolutamente sì, e in ogni caso voglio proprio deprecare, condannare qualunque atto di violenza personale, anche le violenze verbali, devo dire, fanno male. fanno male. Detto questo, sulla legge regionale, io ho valutato positivamente il fatto che la Regione Liguria abbia presentato adesso in maniera formale una proposta di legge che il Consiglio regionale poi dovrà discutere e votare, che contempla, ed è molto positivo che questo avvenga, l'istituzione di un'agenzia che è un organo regionale, che dovrebbe un po' avere i compiti di organizzare il trasporto pubblico ferroviario e su gomma a livello regionale vedendo tutte le possibili interdipendenze. Terzo aspetto, naturalmente ci sono ancora molte questioni da chiarire per quanto riguarda le aziende che adesso operano sul territorio regionale. quarto, che riguarda il Comune e l'AMT. Il Comune è impegnato con l'azienda e anche in un dialogo costante che non si è mai interrotto con i lavoratori dell'azienda e con le organizzazioni sindacali in un'azione che vuole evitare per AMT quello che è accaduto per l'azienda del trasporto provinciale, cioè il dissesto dei conti con rischio proprio del fallimento dell'impresa. Secondo lei però perché i lavoratori vedono con questo timore ogni ipotesi di privatizzazione giusto stando al tema AMT? Dunque, io parlo per il caso genovese. Esiste un motivo fondato che riguarda il negativo negativo andamento della passata esperienza, nel senso che negli anni scorsi per un certo periodo una quota del 40% di AMT è stata detenuta da un socio francese, compagnie, società francesi con una esperienza e con una professionalità in dubbia per la verità nel settore dei trasporti. Come ha funzionato questo rapporto a Genova ovviamente suscita critiche perché non c'è stato un miglioramento reale per una serie di motivi. Diciamo che ci sono state anche molte responsabilità genovesi da questo punto di vista. Ci sono state anche delle responsabilità genovesi, c'è stato ovviamente di chi è la colpa che le cose non siano funzionate, discorso lungo, sicuramente non c'è stato un effettivo miglioramento del sistema che ha continuato ad avere le sue capacità di funzionamento che secondo me vanno riconosciute, i suoi difetti che vanno osservati e vanno corretti e c'è una preoccupazione che l'arrivo di un socio privato che non è stato assolutamente deciso perché il primo problema è tutelare l'azienda e garantire ai cittadini genovesi un servizio decente. Allora queste ipotesi, questo suscita paure, preoccupazioni, anche perché si teme che un eventuale socio privato possa poi immediatamente imporre un peggioramento delle condizioni lavorative, possa individuare degli esuberi. Noi siamo ovviamente perché il tema delle eventuali eccedenze di forza lavoro nelle aziende comunali si è gestito utilizzando a tutti gli ammortizzatori sociali possibili e anche utilizzando quelle norme che adesso il governo sta portando avanti di mobilità tra aziende in modo da non lasciare persone senza lavoro. Secondo me questa è una mia opinione e non voglio neanche coinvolgere questo ragionamento, bisogna però in queste vicende sempre stare attenti perché per salvare magari 10-15 posti di lavoro, lo so che è bruttissimo da dirsi perché poi dietro il posto di lavoro ci sono delle persone, ci sono delle famiglie, però bisogna stare attenti perché magari per salvarne 10-15-20 si rischia di mandare a bagno tutto quanto il sistema e allora i lavoratori che rischiano diventano addirittura centinaia. Su questo anche se lei non mi voleva coinvolgere sono d'accordo, nel senso che se il sistema va a bagno si perdono tutti i posti di lavoro e questo non ce lo possiamo permettere, dobbiamo cercare di avere delle aziende comunali, quando l'azionista è il comune, che siano sane. Mi pare un meccanismo interessante quello che lei dice, avere la possibilità di spostare del personale da un ambito all'altro. Ci vuole un supporto dal punto di vista legislativo forte perché le norme se non cambiano un po' sono molto rigide e quindi ci devono essere proprio delle norme che prevedono la possibilità di ricorrere alla mobilità dei lavoratori da posto di lavoro a posto di lavoro per mettere le persone nel settore pubblico a lavorare dove c'è bisogno. Ecco, poi il paradosso è questo, che magari ci sono ambiti in cui c'è eccedenza e ambiti in cui invece c'è scadenza. Esatto, poi però la cosa è ancora complicata dalla professionalità del lavoratore, nel senso che se io ho bisogno di un geometra, ho bisogno di un geometra e non ho bisogno di un giornalista. Senta, rimanendo nell'ambito dei trasporti possiamo andare al primo quesito che arriva dai cittadini e riguarda la metropolitana. Il signor Alberto dice che la metropolitana è arrivata a Brignole ma ora a questo punto non si sente più parlare di prolungamenti di quelli che possono essere i progetti per il futuro, invece il Comune mi pare che qualche idea ce l'ha per il futuro. Ce l'ha, ce l'ha assolutamente, ho fatto proprio pochi giorni fa un incontro nel mio ufficio con l'assessore, con i nostri dirigenti responsabili della mobilità, è stato anche indicato nel programma elettorale. L'idea prioritaria è quella di prolungare la metropolitana, più è lungo questo tracciato, più è funzionale, più facilita gli spostamenti sul mezzo pubblico metropolitano e di cittadini. La direzione su cui si deve puntare è quella Martínez Terralba, cioè da Brignole, dove la metropolitana è arrivata, a proseguire in direzione dell'ospedale di San Martino verso San Fruttuoso, Martínez Terralba. Quali sono le questioni da affrontare? Uno, la disponibilità di finanziamenti che non sono consistenti, si parla di circa 15-18 milioni di Euro, non sono pochi per le casse del Comune, ma ci si può arrivare con grande oculatezza nella gestione delle risorse finanziarie che abbiamo. Il problema è che bisogna in tempi rapidi, trovando una disponibilità reale dell'interlocutore, raggiungere un accordo con le ferrovie perché la metropolitana da Brignole a Martínez e poi Terralba correrebbe su spazi delle ferrovie che le ferrovie potrebbero non utilizzare, proprio su binari, utilizzando tracciati che erano con binari ferroviari. Che abbatterebbe i costi, ovviamente. Assolutamente sì, perché non ci sarebbero scavi di gallerie da fare e si potrebbe procedere in tempi molto più rapidi. È necessario, e qua lo dico a profitto, che i grandi comuni italiani, quindi Genova ma non soltanto, possono avere con le ferrovie un rapporto trasparente, anche qua ci vuole secondo me un intervento del governo che dica alle ferrovie le aree di cui voi non avete bisogno per il lavoro ferroviario, trovate un modo per accordarvi con i comuni per mettere a disposizione delle città, un modo che non sia che noi espropriamo le ferrovie, però questo è decisivo, ci vuole una disponibilità dell'interlocutore ferrovie su una serie di aree da dismettere da parte delle ferrovie che devono essere concesse ai comuni, come certe aree demaniali, caserme… Sì, su questo ovviamente è veramente indispensabile la possibilità di avere un rapporto diretto con le ferrovie, perché se ci sono mediazioni… Allora, la metropolitana, obiettivo primario è andare a Piazza Martinez e Terralba, i finanziamenti il comune potrebbe recuperarli, il problema è che bisogna raggiungere un accordo con le ferrovie e l'accordo si fa in due, quindi le ferrovie devono essere disponibili per mettere a disposizione di questa opera importante un pezzo dei binari che non vengono usati più per le ferrovie. Benissimo, ci fermiamo un attimo, ma saremo presto di nuovo con voi.